Eccoci tornati su Far Cry 6 e dobbiamo andare qua, la Tana del Leone. Dai dai, dai scendere! La Tana del Leone è in ignizione, non lo vengono, ok? Apprezzato! Gnitire, non ci mettono ad andare via! Ah va bene dai andiamo 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 facciamola è un viaggio di solo andata e facciamo questo viaggio di solo andata Juan, cosa sta succedendo? Lei ha fatto la Dania! Lei ha fatto la scuola! Lei ha fatto la scuola! Castillo ha fatto il parlay, solo due di loro Dice che la guerra è finita, Libertà ha vinto E' solo chiesto un'escrizione e giocato E' giocato in una scuola di giocato Castillo ha smasso il nostro convoy quando ci siamo riusciti Cosa? Quindi cosa è successo? Tu e io andiamo a invadere il Presidente's private island For favore, non mi puoi levar qui Cestians calla di Elefante Cut off the breathing tube, they read out their own mother Then they tell you some other fucked up shit E what's your size? Supremo on or off We're going quiet Every single soldier on that island was handpicked by Castillo So keep your distance These are elite killers Understand? Ready I'll find sniper cover You hit the house I had my guess It's family dinner Just leave me at a giant cliff No problem No problem No problem No problem Got eyes on Anton's home Ok I'm in position You need to get past the wall And do it without getting caught You are a panther Danny No one can touch you Any actual advice? The gate through the wall will be locked Find the key Danny Like some kind of key finding panther Suerte Just the key I was looking for Okay Just the key I was looking for Okay Can't have a private villa without a massive security wall to get through Here we go What? I'm in Copy Danny Let's move Who the fuck knows what Castillo's doing to Clara Easy Easy You need to remember that these grounds are patrolled by Anton's elite killers Your uniform is useless now And if you get discovered Clara dies Shit Right Breathe Danny I got your back Okay Clara Where the fuck are you? Come on Danny Try the second floor I'm picking up movement there Okay Gracia Can you see Who's not here? That's how I got here Can you see I got my top Can you see I got to see I got my top Can you see I'm going to see Che è vero? Cosa? Juan, hai eyes on Anton's home. Ok, io sono in posizione. Hai bisogno di andare pasto la walla e farlo senza capire. Sei un panter, Dani. Nessuno può toccare. Quali reale consigliere? La porta per la walla sarà fermata. Find a key, Dani. Come un tipo di key-finding panter. Suerte! Eh, dai, però. Cioè, non fammi stare lì e dire entri o non entri. Ahhhhhhhhhh. Da 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 daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Stop staring. Sit. Dani, sit down. Ma madre... ...a un ruolo. No lies at my table. E quindi, no lies for you. I have acute leukemia. I was diagnosed 13 years ago. But there was a doctor. Il prometto di quello che siamo tutti così stupi. C'è tempo. Ma non è sufficiente. È stato Diego? Papa, non voglio ascoltare questa storia. Ho bisogno di insurazione. Ma l'irrona è stata... Ho scopo i figli. Ma Maria? Maria aveva un modo più difficile. E... tu sei, mio. 13 anni forte! Nittica? Davi Viro ha scopo. Quando? 6 anni fa. Non c'è la condolenzia. Non c'è la mia! Non c'è la mia! Ma lui... L'irrona la visione. Non ti? C'è la verità o c'è? C'è la verità. C'è la verità. Ah, credo sia la verità. C'è la verità. Vieni! 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 Il mio figlio, per mostrare quello che era davvero prima di me. Tu sei libertà. Sono solo un guerriero. Non c'è la mia scuola! Tu sei una legenda. Ci raccontano le storie di te. Come on. Tu sarai loro l'hobe. E ora... Tu sarai l'hobe. E tu ancora non capisci? E tu ancora non capisci? Mi ha detto di lasciare. E questa è la tua scuola. Se tu vuoi lasciare? Tu sarai l'hobe. Tu sarai l'hobe. Alla mia squadra e ti sarai l'hobe. E tu sarai l'hobe. E tu sarai l'hobe! Tu stai chiuscita da provare a noi. Superi Arranz. Regalati Arranz. L'altra cosa è la nostra strana! Direi 챙 evitiamo il nostro nostro futuro. Tu sei un uomo, moro l'laino. E tu terni, 60. Tu ha la mano così come benissimo! Non sei a canale, Anton. Io mi prendo il xuolo. Chi ci si parla? Io prendo la scuola. Uno! Diego! Voi Diego, ora! No, 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 no! Telo! Telo! Ah! Telo! Did I get him, Danny? Juan! Clara's it! No, 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 no! Talk to me, Danny! She's dead! Juan! Juan! Honey! Come on me! Come on! Qua bisogno uccid- Borca di quella- Cortino interno, forse? Porca puttana! Mannaggia! Cercerooli! Cercerooli! I am nothing like you! Not yet. Clara is dead. But we have the Eagle's Nest. This is where we will launch our attack on the Capitol. What are you talking about? You know exactly what I'm talking about. Like it or not, you are Libertad's jefe. So either walk away right now, or lead us to fucking victory! We never talked about killing the kid. Where are you going? To finish what she started! Porca puttana! Regla numero 83. Ogni guerrigliero guida... ...la propria evoluzione. Clara dreamed of this moment. When I met her... ...I wanted to get the fuck out of Yara. Then she told me what... ...what is going on. She made it really well. Fighting with you has been great. Just great. I got your back, you have mine, you know? Even if you're old... ...if you're young... ...it's okay too. I like all of you. What I'm trying to say is... ...we're going to win. I promise. Shit, you're really bad at this. Yeah. Wow. Dani... Clara was a great leader. But there's a reason we joined Libertad. We're with you, jefe. Now... Let's take our country back. Dani... Viva Libertad! Viva Libertad! Love you, Dani! Viva Libertad! Viva Libertad! Let's go! Viva Libertad! You look like a bag of shit. Like looking in a mirror, no? Guess on rest, compaio. Be the legend tomorrow! No, that tomorrow... We need to go now and conquer... ... NOW! Ora, attacchiamo, perché lui pensa di essere... Torre del Leone e Speranza. 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 oh cosa e ruby shot gun qua no qua oh vedi e qua giacomini eh vabbè niamo 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 dai dai guys mika Sì 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 Diego in il peggio! Oh, hai dovuto stare a me? L'abbia il bambino, Dani! F***a te, sta bruciando! C'è il cuore il cuore, Dani? C'è bruciando? Non lo so, non lo so, c'è troppo sangue! Non lo so, Dani, ci siamo arrivati! Voi, Diego. Vieni con me, Chimaco. È... è ok. È... è ok, Dani. Tu eri il bambino. Non, non... Merda, c'è, non c'è, c'è, ha fatto fuori il suo figlio! Madonna! C'è proprio... C'è morto, è morto, non ti preoccupare! Vacca miseria, c'ho i bri... C'ho i brividi! Madonna santa! Non voglio essere la persona di dire questo, ma... Cosa faremo adesso? Cosa faremo il leader, fino a che possiamo fare le elezioni. Cosa c'è una persona che io credo in questo ruolo. Cosa faremo non dirlo a te stesso. Cosa è la tua, Dani. Lo siento. Non, non è. È un politico. È un problema. È un problema. È un problema. L'unica razza che stiamo qui... È perché non abbiamo aspettato per un'altra persona... ... per salvare le cose. Quando la tirania è lunga... La rivoluzione è in ordine. Onde stai? La sua è la tua. Non lo f***. Madonna santa, che finale! Regola numero 16. La rivoluzione di un guerrigliero. Non finisce mai. To fallen heroes To Ayada You know, Danny, there's never gonna be an election There's plenty of Castile's friends out there who want to make sure of that You want to go hunting? It's like I'm looking in a fucking mirror You want a guerrilla? Always a guerrilla I ever tell you the story of the time Santos smuggled me into Uganda so I can steal him a goddamn zebra? Yes Angry motherfuckers No, that didn't stop me, Danny Just gives me confidence Finale ad hoc, diciamo Mi è piaciuto Un sacco For the crèze say Sì Sì Una tragedia Sì, sai, alcune persone sono solo... ...seccano la mente, hermano Sono senza controllo Anche la prossima settimana Oh, puoi betta la tua vita Sì